Per un personaggio così tecnico quanto quella stronza di Peach and Daisy Sì Quello con le cuffie a fianco a me lo potreste avvicinare? Scusate mettiamo a posto la grafica Chi c'è? Oh grazie mille Scusate tranquillo il tempo non è Ok ci siamo Bene si presenta una partita abbastanza even da iniziare Sì però comunque lo spacing che riesce a fare Esatto l'orex se la cava bene comunque in ogni caso Sì sì ma vabbè poi c'è il nair stupido di Lucina Comunque che figa Di Palutena Sì sì vieni Quello è vero anche io infatti ne ho risentito molto Purtroppo mentre giocavo contro la sua Palutena Molte opzioni nella mia testa non erano possibili Semplicemente per l'esistenza di quel nair Sì è veramente una di quelle opzioni che veramente si fanno su paretta Certo Perdi metà della tua mente Per colpo di una mossa Tipo di venticelle prolese Esatto si hai due cromosomi Diventano uno capito Ma vabbè Cristoforo si ha commigliorato Certo Nel neutral soprattutto Che poi parlavo di Nauric Nel neutral certo Sì nulla Nonostante tutto però l'orex riesce a prendere una stock agivolmente Può recuperarla tranquillamente Certamente il pressing che sta mettendo comunque Lucina è assurdo È Palutena 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 Scusami C'ho fisso perché prima ho perso contro Giorgio Sono uscito fuori a causa sua È mio Sì sì è uscito fuori a casa di Giorgio Certo Ah quindi magari c'è un testo Quindi sì c'ho ancora Lucina in testa Sì 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 posso capire Oh che bel peri Ma quanto sono molto visabile Esatto È tristissimo Il fatto che tu abbia assoluto tre frame di vantaggio è davvero Magari in base alla mossa Ma ancora lì grazie al pico Cioè smash peri ti punisco E ci sta Certo Cioè Side B di Chrome Peri E niente E niente Forse perché mi sclicca Forse perché Non te la senti Oddio mio Ma qualcosa mi regala Ah mi riuscirà salvarsi perché Chrome mangia pastelli Esatto Sì 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 C'hai pastelli nel cuore Nel suo problema Non te l'orex con Con Palutena Palutena Sì sì Lo scopio L'esploding wave Sì In una zona che io non mi ricordo E quindi non mi riesco mai a ritrovarci Sono d'accordo Perché Sto Non so sì Visto Io la cosa che mi ha salvato era il float No non l'ho vista la partita Stavo giocando Purtroppo Sì sì Senza il float anche io Mi sarei fatto punire anch'io Da qualsiasi binge Io veramente alcune volte Dico Altrimenti sono salvo E ci ho fatto Un ci ho fatto Un singolo Sì sì Esatto È come una palla Che c'è un Sì Non è meglio Sì Basta Ok La partita comunque Si sta veramente Mi piace un sacco Perché è molto Movimentata Sì Pensavo che Hanno iniziato dal lato destro Sono partita dal lato senso Si Sono ritrovati al cento Proprio di un'opera Proprio di un'opera Proprio di un'opera Così via Sì Esatto Non è delle palline Esatto Esattamente Ottimo Bellino Littura Mamma mia Vedi quel counter Questa qui Sì c'era Dura anche un bel po' Dura un bel po' E' uno dei migliori adesso Perci farlo anche Sì sì esatto Per la durata alla fine Esatto Esattamente A molti frame attivi Perciò ti puoi star tranquillo Vatti lì Comisci sempre a meritare di Chrome In generale secondo me Non so perché Sarebbe il fatto di record Forse Roy Regala più safe Certo Non esageratamente Comunque non porta Porta La spada Che su Devresti essere Bellissimo Sì Ok adesso Bene Perfetto Poteva farlo già Dal primo jab Ha rischiato Però In realtà poteva startare la combo Perché Il grab Dopo che fai lo shield In questo gioco E' più Certo Più lag Esattamente Inverte la cosa Che puoi fare è tipo Un short up nere Esatto Fare Aerial out of shield E' molto meglio Riesci di grabare In generale Ma in aerial intendono Tranquillamente Che puoi anche fare nere Sì Nere Tutto quanto Perché Al prima volta non capivo Fatemi perdere No puoi fare quello che vuoi Basta che fai Short up Esatto Devi stare attento A non inputare Allo stesso momento Si stick Con short up Che ti esce nere Sempre E' finita con una schifosissima C'è C'è Una partita così bella E mi fa una carica Non ho usato la combo stupida Lo rispettiamo Anche perché Comunque sia la combo stupida In buona Se hai una lead Di stock Perché In generale Tu ne puoi uscire Tu ne puoi uscire Di AI esterna Doge Tu ne puoi uscire Di AI esterna Doge Próxima C'è Misericordia O sono sorprendenti Perché puoi fare Leningner Si lo sta violentando Sul fattore Sul fattore del neutral Certo Cioè c'è un grande spazio Assolutamente Io adoro come gioco a Cristo Mi sto facendo E' morto Adesso non ti amo Si infatti in generale Nonostante mi abbia Spaccato il culo Mi sono divertito A giocare con Si perché è un player Comunque che cerca Sempre di mixappare Esatto Varia un sacco Cosa che infatti premia Con il sacco di sé Sono d'accordo Sono d'accordo Comunque In generale Attenzione Cambia sempre le opzioni Bellissimo Quella back through Ok Di nuovo Beh Ok Si muove molto bene Infatti ora Fa il salto Riesce a leggere l'aerea Backer E' riuscito a recuperare Tutto quanto Lorex A 155 Bravissima Esatto La cosa buona di Lorex E' che quando entra Riesce a sfruttare Quasi sempre al massimo E' il punish Eh Vabbè non fa nulla Adesso è giusto Che lo stiamo Complementando Esatto Comunque Jab Jab Ferro Ok Aperto Sì vabbè Comunque stai rimandendo Sempre in positivo Certo Assolutamente Bella quella zappata Bravo a jumpare Cristian Perché lì Se non jumpi Comunque Riesci comunque A sopravvivere di più Jumpando Sulla blast Vieni Vicino Ottimo per Per il tacento Mi piace Sì Per riprendere Vedi come spazia Perché per il son cose decente Vedi come spazia intorno Comunque al range Di Chrome Cioè di Fortena Ma delle cose molto stupide Poi con riguardo Lo spacing Sono molto migliori In confronto a quello Di Roy Stava dicendo Non ha sour spot Mentre Roy Appunto Sour spot Nella spada È tutto sweet spot Quello di Chrome Perciò in generale È un piccolo solido Migliore per su quel punto Esatto Bel bear Bel bear Ora in situazione di vantaggio Facendo l'edge guard L'aveva letto L'aveva letto Però è riuscito Cioè non è riuscito a punirla Brava Bel counter Giusto No? Bravissimo Tima recovery Potremmo iniziare a farlo così Esatto Dovrebbe semplicemente scendere Un po' di più Cioè lo fa che dato Christophe lo farà Sì Esatto Ma tieni conto Che comunque Il range dell'app B di Chrome È talmente alto Che sweet spot È abbastanza complicato Sì poi vabbè Penso che sia anche difficile Da calcolare Basta un errore E muori A che punto Meglio un po' soffrire Vedi di nuovo Perry punta Che tristezza Sì sì Cioè Nero E sai che tutti quei Perry Comunque potrebbe essere tilt Grave Certo Certo Nero E robe simili Tenta la backdrop Adesso deve essere Solo Gimparlo Eh di nuovo Ok Vediamo cosa fa adesso Se la fa di nuovo Gli ha fatto il counter Che l'ha deviato Dici che l'ha deviato Oppure secondo te Non si aggrappava lo stesso Perché potrebbe essere Perché Chrome A differenza di Ike Se non sbaglio Ah è vero È vero Letter Mentre C'è lettere di Ike No È vero Me l'aveva detto poco fa Dario È vero È vero Poco fa Qualche mezzo Si può comunque Nel Sinblade Per cooperare Tu hai giocato anche contro Dario No Non ho mai giocato contro Dario È per fortuna Se no me ne sarei uscito Incazzato Incazzato Sai di Anche Dario è bravo C'è una buonissima testa Non è chi Non ha chi lato Non ha chi lato Quindi c'è ancora una speranza Per il nostro Cristo Assolutamente Assolutamente Stai fatti Stai fatti Tenta la grab Eh sì Anche perché la tech Di girare la levetta E fare il tilt In modo che tu abbia più range Perché slitta Il personaggio Aiuta Chrome In una maniera Sì Tu tu basta che vai avanti E ti tilt E c'ha più range Perché slitta E così ha fatto E infatti ha killato Sì è una cosa Veramente bella Ora assaggio finalmente Sto cosa Ci sta Favorisco quello però Con la crema al centro Questa quanta trittata Questi qui sono Proprio pesanti Adesso non c'è nulla Vabbè Milpatch Si parla del cioccolato C'è Molto buono Hai fatto il mio stesso errore Dicendo Milpatch Eh? Hai fatto il mio stesso errore Dicendo Milpatch Perché devi pensare Che tu stai sbagliando Ah giusto È vero È vero Non è Milpatch Tranquillo Sei forte Credicelo Vabbè Vabbè Non c'è di commentare un po' Non stanno facendo Sceglie il colore blu Raga Impressionante Mamma mia Che sudata Io avrei scelto Veramente il rosso Oppure il viola Il viola è un bel attizzato Grazie il viola Io l'adoro In generale sì No Su Palutena c'è Sto bene il viola Ner 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 F 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 Non gioca Prima le tif Cristo Cosa Che forse invece Contro Cron Potrebbero salvare Vediamo Comunque Molto che Corre Cioè Tramite F Oxfut Comunque Parchettino I simili Potrei fare Down tilt Up tilt Che comunque Sono solite Di range Ecco Sì Non lo so Io non li conosco Bene Il personale In ogni caso Secondo me Fa bene A mixappare Queste aeree Perché Si aspetta Un counter Anche perché In realtà Se fa di ai Esterne È molto più probabile Che vecchia un ferro Che non Ner E in quel caso Ad esempio L'orex ha mixappato La di E l'ha fatta In terra Perciò Non ha preso Il ferro Capito Non intendo Quella scusa Ma forse Mi sono spesso male Comunque È un player Che fa Un personaggio Che fa Cioè Un player Non è un personaggio Perché è un personaggio Che fa Certo Sono d'accordo È uno di quei player Comunque fa Veramente Perché Che fa Che non c'è Bo Fa So Fox Cap Stilt Comunque Le trittite Palutena A me piacciono Un sacco Perché Permettono Spacing Che forse Contro degli Spadaccini Che infatti Hanno Un mattone Al posto Di una mano Perfetto Ci sta Ci sta Ci sta Mi sa Quando è Ma Era perfetto Io Amplita In Esatto Esatto Molto bravo Con l'Italia Cosa ha fatta Cosa ha fatta Cosa ha fatta Cosa ha fatta Ce la fa Ce la fa Esatto Bel counter Non riesce Non ho capito Il counter è entrato L'ha detto L'ha fatta notare Il counter Ma ha colpito Nel mezzo Ok 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 Backthrow Eh vabbè Bel lasciattato Ci sta Ci sta Avendo anche L'amicibilità Su scudo Era un'opzione Abbastanza Safe Poi non l'ha mai fatto Esatto Esatto L'ha fatto una volta Che il laptop Perfetto Meglio di così Ok Da un trovo Ma poi vabbè L'orex Ha segnato un sacco Vedi Ha fatto adesso Quell'ending up Che era molto buono Perché ha coperto Qualsissime opzioni Possibili Che non Che uscite Ah vabbè Tutti Che si Ressi Bella Continua a farla Pensare Sta andando Si si L'orex Faccia un sacco Come giochi Infatti Lui si chiama Così Lui la vorrei Riprendere Come funta Perché Comunque Gioca anche Amici Ci sta In ogni caso Secondo me Si è sblocato Grazie al dash dancing Grazie al dash dancing Ora Lo vedo Subito C'è un fattore C'è quel fattore Comunque Che lo sta facendo Infatti Andare molto più avanti Da essere E' veramente Molto più positivo Sta riuscendo a fare Molto un mix up Comunque Lo sta facendo Sudani Si Ormai La lead È davvero esagerata Gliela fa Tutto non so Il bingo E comunque Mi sta piacendo Continua Beh tieni conto Che se Se lo prendessero Un commento Non avrebbe senso Se non c'è Se uno sta Per No no Lo sto mettendo Io Se uno sta Per Non lo chiedo No Avrebbe killato Se fosse stato Sul bordo Si Sul legge È vero Ok Adesso recupero Vediamo l'opzione Oh Sfrutta l'invincibilità Della gap Tampata Che uccide Col 6 Si Ha fatto l'ex Ciao Ha fatto l'ex Forming web Non mi spiegare Cioè Non mi spiegare Cioè Non mi spiegare Ok Eh Che cosa le rovina Si Esatto Altri Bezzansunno Non è ancora molto ma Ma Belle manomagnetiche Cioè No Non mi spiegare No Bella Ottimo Scusa La tua scena Ci sta Ricoprenate Io Non c'è Non c'è Cioè Ma Non mi dispiacerebbe Perché Vedere un'altra partita una partita così tanto movimentate sono veramente il top del top secondo me si sono d'accordo assolutamente ultimo bene mi piace uscire mi piace uscire tra le opzioni era la prima spettacolo si esatto ciao nuovo down test per prendere 2 frame che tappa attacca che bella cioè veramente zona in una maniera eccelsa ma se ce l'hai contro no 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 si 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 non lo fai perchè sei cristiano vedi la stava attirando troppo spesso il set b ogni volta che tira il set b a distanza molto lontano da sé si lo può fare anche vicino poteva sempre alternarlo esso esatto in questo momento se l'avrebbe alternato avrebbe anche vinto